è tutto vero è tutto vero si vuole a liverpool ci siamo già stati e ci torniamo ci torniamo ci torniamo siamo carichi è stato bellissimo davvero bellissimo un sacco di qualità in gara fino alla fine non ci aspettavamo quindi complimenti e vive per giove i nostri amici benissimo a chi dedicata la vittoria alle nostre famiglie che ci hanno sempre più di noi spesso che sono tantissimi anni che ci sopportano è arrivato sì sì assolutamente alle famiglie allargate e quindi di conseguenza tutto il team che lavora con noi alla nostra manager toia il nostro fotografo fotografo andrea che ci segue ovunque in tutte le trasferte più incredibili anche sfigate della vita e devo fare anche allora tutti i ragazzi del anno mi troppi pensate a liverpool di manco no lo riprendo subito io devo fare una dedica velocissima anche alle ragazze che ci sopportano che sono a casa o qui in teatro e le mandiamo un bacio a tutte complimenti ragazzi grazie ancora complimenti ragazzi